Canto ogni volta che guido Nonostante sia estate non fa caldo Se ci fosse il sole uscirei Vado a passeggio finché c'è luce Luca viene a cena ma non beve vino Puoi venire in auto oppure in bici Se non nevica allora non sciamo Si è sciolto come se fosse ghiaccio Mi piace il dolce ma odio il salato Lavoro tutti i giorni tranne lunedì Mi piacciono sia i cani sia i gatti O la smetti o ti denuncio Ho fame e quindi inizio a cucinare Luigi non esce perché è stanco Luigi non esce perché è stanco Certamente Certo Semplice Semplicemente Facilmente Facile Facile Popolare Popolare Popolarmente Felicemente Felicemente Felice Leggero Leggermente Leggermente Enorme Enormemente Enormemente Altrimenti Altero Preciso Preciso Precisamente Precisamente Specialmente Specialmente Speciale Utile Utile Utilmente Veramente 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 Lento Lento Lentamente Ultimo Ultimo, ultimamente, voluto, volutamente, tristemente, triste, vero, veramente. Urgente, urgentemente, difficilmente, difficile, pesante, pesantemente, comune, comunemente. Uscire. I miei amici sono usciti dal cinema. Vuoi uscire questo fine settimana? I miei cugini escono di casa adesso. Noi usciamo insieme da tre mesi. Dalle rubinetto esce molta acqua. Lasciare. Lascio la stanza appena ho finito. Ho lasciato il mio telefono a casa. Lascio le mie chiavi sul tavolo. Hai lasciato le chiavi in macchina. La tua amica lascia il suo fidanzato. Partire. L'autobus parte dalla stazione. Domattina parto in auto. Mio cugino è partito domenica. Questo libro parte da un'idea. Parto ogni giorno in anticipo. Andarsene. Dobbiamo andarcene via dalla festa. Luca se n'è andato sette anni fa. L'inverno se ne va tra due giorni. Non andartene dalla scuola adesso. Se me ne vado poi non torno più. C'è tanta gente sulla spiaggia. C'è uno spettacolo questa sera. Dai miei nonni ci sono i miei cugini. C'è posto per tutti a tavola. C'è ancora molta strada da fare. Non ci sono caramelle nell'armadio. Ci sono dei panini freschi in cucina. Ci sono due concerti questo mese. Non c'è nebbia questa mattina. C'è la pasta questa sera a cena. C'è un incidente in autostrada. Ci sono molti uomini nello stadio. Non sappiamo se c'è bel tempo. Se c'è il sole fa molto caldo. A casa tua si mangia bene. Le monete sono nella cassa. Luca indossa un cappello. Hai un capello sulla giacca. Ho tolto la neve con la pala. Domani giochiamo a palla. Fa caldo e ho molta sete. Ci vediamo alle sette in punto. La nonna ha fatto il tonno. Parla con un tono più basso. Hai già fatto la spesa oggi? Devi portare fuori il cane. dopo andiamo dal nonno. Sono già al nonno episodio. Ho appena steso i panni. Nel libro ci sono alcuni sbagli. Dopo mi bevo un altro caffè. A scuola tutti vanno d'accordo. Oggi non ho visto nessuno. devo risolvere certi problemi. Ogni libro deve stare in ordine. Avete perso molti documenti. Ci siamo visti diversi mesi fa. non ho trovato nessun traffico. Fino a stasera ho troppo da fare. Basta poco per pulire la casa. Ho sentito cosa dicono gli altri. Abbiamo poche piante in casa. I dipinti qui sono di varie epoche. Molta gente va al mare in agosto. troppi bambini non leggono mai. Siamo troppo stanchi per uscire. Ho mangiato poca pasta a cena. La tua macchina è molto veloce. quel libro è poco interessante. Sei stato tante volte in città. Oggi abbiamo parecchio da fare. i tuoi figli studiano sempre tanto. Loro fanno molte passeggiate. Quante camicie hai comprato? ho visto quanti fiori hai a casa. Ha fatto molti sbagli nell'esame. al parco ci sono tante persone. Sono molto stanco per il viaggio. Questa carne è troppo cotta. Claudia ha tanti gatti a casa. C'è poca gente in giro la notte. Voi leggete molti libri di storia. Non sai quanto sono contento. A scuola si sono iscritti in tanti. A me piace andare in bicicletta. A me piacciono le biciclette. A loro piacciono i viaggi. A voi non piacciono i gatti. A te piace molto nuotare. A lei non piace mangiare fuori. Le piacciono molto le novità. So che a voi non piace il pesce. A lui non piace scherzare. A lui non piacciono gli scherzi. A volte a noi piace festeggiare. A me non piace proprio sciare. Mi piace la cucina italiana. ci piace andare in discoteca. Non mi piace rimanere a casa. Ci piacciono molto le grigliate. non mi piacciono i concerti. Gli piace molto giocare a carte. Le piace fare spese il sabato. Non le piacciono le partite. A loro piace il gelato al limone. Mi raccomando, state molto attenti. Noi siamo arrivati. Voi ci siete? I nostri figli sono molto felici. In questi giorni sto un po' male. Sto per andare al parco. Tu ci vieni? Claudia è una cardiologa. Secondo te ci stiamo tutti in auto? Queste scarpe mi stanno male. Quel cappello ti sta bene. Non disturbarmi, lasciami stare. Non alzatevi, state seduti. Come stai? Sto bene, grazie. Sto guidando, sono in autostrada. Lui è sempre il migliore. Queste scarpe mi stanno strette. Ieri non eri insieme a noi. Alzarsi, tu ti alzi. Annoiarsi, lei si annoia. Arrabbiarsi, lui si arrabbia. Alzarsi, io mi alzo. Dimenticarsi, noi ci dimentichiamo. Divertirsi, voi vi divertite. Lamentarsi, io mi lamento. Lamentarsi, io mi lamento. Lavarsi, loro si lavano. Mettersi, tu ti metti. Preoccuparsi, lei si preoccupa. Prepararsi, lui si prepara. Sentirsi, noi ci sentiamo. Sposarsi, voi vi sposate. Svegliarsi, loro si svegliano. Vestirsi, lui si veste. Svegliarsi. 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 Ero, loro siprocessi. Svegliarsi, lui sfuggiale. Ehi, le chiusura. Grazie.